Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Come potete vedere oggi abbiamo un grande ospite, Davide Cecchini. Tantissimi di voi lo conosceranno, ha iniziato da circa 3-4 mesi, se non vado errato, ma ha già avuto un incredibile successo, è proprio entrato nel cuore degli amanti dell'orologeria e quindi oggi ho proprio il piacere di introdurvi, ecco Davide. Ciao a tutti, per me è un piacere essere qui con Stefano che è il capostipite degli youtuber italiani ed è uno di quelli che ho sempre seguito anche ai tempi in cui si faceva i tuffi dalla piscina, ebbene sì. Perché eravamo proprio all'inizio. Davide, qual è il motivo insomma per il quale sei entrato nel mondo dell'orologeria? Mi sono appassionato agli orologi esattamente diciamo 5 anni fa e come in tutte le cose in cui io mi appassiono, cerco di approfondire. Se io dovessi acquistare domani un aspirapolvere, probabilmente studierei il aspirapolvere per cercare quella migliore. Funziona così. E quindi appassionandomi, studiando, sono arrivato a capire che l'orologio che avevo preso come primo orologio era una mezza ciofeca, era un Emporio Armani. A quel tempo pensavo che si trattasse di una marca gigantesca e invece poi studiando ho capito che non andava bene, che non era un orologio da considerare. Quindi studiando, comprando, sbagliando, rivendendo, sono arrivato a un punto che modestamente penso di sapere cosa voglio da un orologio. Con il tempo sono... Però il vantaggio insomma è stato di averlo comprato, è stato che ti ha fatto un po' entrare nel mondo. Sì, allora qua torniamo al punto che dicevete una volta, che magari quegli orologi da due soldi che tanto distrattiamo a volte possono aiutarci ad entrare in questo mondo. Per me è stato così, è vero. Qual è stato poi il primo orologio che appartiene insomma all'orologeria tradizionale? Ecco. Il primo orologio è stato l'Hamilton Jets Master Maestro Cronografo. Quello che mi hai anche fatto vedere... No, non ce l'ho più, l'ho venduto, l'ho venduto perché... Mi hai fatto vedere un Hamilton? Era il 38, il cacchi da 38. Ah, il cacchi da 38. Invece quello lì era il cronografo con l'Eta 77,50 o come si chiama l'H dell'Hamilton. Sì, sì, ma insomma sempre un 77,50. E l'ho preso in gioielleria Sarzana, un bello orologio, proprio lo volevo con tutto il cuore, assomiglia un pochino al portoghese della IWC, no? Con quei numerini... Però poi dopo mi sono accorto che il diametro da 45 senza lunette era veramente gigantesco, era pesantissimo e l'ho svenduto proprio dopo sei mesi, l'ho dato in permuta addirittura. E' ancora in produzione, no? Sì, credo lì, sì. Infatti assomiglia un pochino sia da... Con quei numerini un po' tagliati a un certo punto... Al portoghese, sì. E poi come è evoluto? Come l'è stata l'evoluzione che ti ha portato? Perché insomma, te oggi sei un collezionista, insomma, è una bella collezione. Ma no, non ho orologi importantissimi, cioè... A parte che per me ogni orologio è importante, anche questo Lanco qua del 1950 per me è importante. Quando io cerco di acquistare un orologio, cerco di trovare le caratteristiche che mi piacciono indipendentemente dalla marca o dal prezzo. Ad esempio, cercavo un cronografo, volevo un cronografo automatico, ok? E quindi sono andato sull'usato con il 7750. Ti vai, cerchi... Qualsiasi marca, Lorenz addirittura degli anni 80, Philippe Watch, ci sono un sacco di marche che incassavano il 7750 e che vengono vendute a dei prezzi che sono intorno ai 300 euro, abbordabilissime. Io mi devo far fermare dal fatto che non ci sia scritto sopra Longines o Omega? No. Sono molto richiesti anche i sector nel movimento... E si trovano anche quelli, si trovano. Se ne parlavano l'altro giorno, è che i prezzi sono già andati all'esterno. In alcuni casi, sì, in altri tratti un pochino, ad esempio avevo preso il Philippe Watch Imacos, che ha una forma veramente particolare, dovete andarlo a guardare, perché anche sul mio... Ho fatto anche un video, quindi lo trovate tra i miei video, e l'avevo pagato 300 euro, e quello aveva il 7750 dentro. Dove lo trovi un orologio da 300 euro con il 7750 dentro? Si trovano, no? Si trovano sempre meno, perché oggi, e questa è una buona cosa, insomma YouTube ha aperto, riesce anche a preparare le persone per far sì che poi possano apprezzare anche certi... Prima queste informazioni non c'erano... C'erano sui forum, sui siti. Io stesso scrivevo su un forum, le stesse cose che dico adesso su YouTube le scrivevo su un forum, e venivo calcolato quasi zero. Allora, il passo successivo è stato quello di aprire un mio sito, visto che ho delle competenze di web design, mi sono fatto un sito contatore del tempo, questo due anni fa. E tutte le recensioni che prima facevo, me le sono messe sul mio sito. Cioè, alla portata di tutti, senza nessun secondo fine, no? Sì, sì, sì. Finché dopo ho scoperto che esistono i canali YouTube, grazie a Stefano, grazie ad altri che sono arrivati dopo di lui, e ho capito che lì c'è l'immediatezza. Cioè, le persone fanno fatica ad andare a leggere, fanno meno fatica a ricevere passivamente le informazioni video. Assolutamente. Quindi ho detto, mi metto in gioco, che per me è molto difficile, perché non sembra, ma sono molto timido, quindi mi metto in gioco, ci metto la faccia, avendo imparato da quelli che c'erano prima, perché se non ci fosse stato nessuno, probabilmente avrei iniziato a far vedere le manine così con un orologio. Invece c'erano altri prima, c'erano altri prima, e quindi... Poi anche segui gli internazionali, no? Chi sono quelli, i canali internazionali che... Sì, sì, sono partito da quelli io, cioè, prima di conoscere te, sono partito da quelli stranieri. Prima è stato TGV, come tutti, che tutti conoscono, poi io credo di seguirli praticamente quasi tutti. Cioè, la lingua inglese per me non è una barriera, li capisco, li ascolto, e imparo. Certo. Quello che veramente anche mi ha impressionato, io dico la verità, pensavo all'inizio che tu avessi già avuto altre esperienze, oppure che dietro magari un amico, un tuo amico, ecco, ti avessi dato delle dritte, no? Perché mentre, insomma, tutti hanno cominciato, erano veramente in difficoltà, mancavano le luci, mancavano la qualità proprio, sia audio sia visiva, te sei partito subito molto bene, non solo come qualità visiva e audio, ma anche come tagli, come montatura. Quindi mi immaginavo che tu avessi già avuto delle esperienze, ecco. No, assolutamente no. In realtà, se tu guardi il primo video o i primi video, vedrai che non è così come dici te, perché non avevo il microfono e le luci erano messe in maniera errata, quindi risultano, no, no, grazie. Le luci risultano in maniera sbagliata. Non ho avuto nessuno che mi insegnasse come fare. Ripeto, ho seguito i consigli di chi c'era prima, di chi è venuto prima, vedendo cosa mi piace e cosa non mi piace. Cercando di carpire le parti tecniche, le inquadrature, cosa va, cosa non va, ho fatto da solo, ma perché c'era qualcuno prima. Se fossi stato il primo, sarebbe stato un problema. Inoltre, proprio perché sapevo di non essere in grado da subito di fare una cosa decente, ho recensito prima tutti quegli orologi che non posseggo più, tipo il tesso a quarzo, ad esempio, che però avevo recensito sul blog, sul sito. Infatti, io gli ho dato una guardata al sito, è pieno di recensioni, no? Sì. Quando l'ha iniziato il sito? Due anni fa, ma in realtà io ogni orologio che compro lo recensisco, indipendentemente dal sito o dal vlog. Io quando compro un orologio, mi metto lì con l'entino, guardo, lo scrutto, lo studio, prendo il tempo, tanti non tengono il tempo, almeno la prima settimana, lo vorrei tenere il tempo, se non va bene lo devi portare indietro, no? Sì. Poi può anche non interessarti se prende 15 secondi, ma controlliamo. Quindi io parto dal controllare il tempo, dal vedere, da prendere diametri col calibro, vedere se veramente è quello che dicono. Ad esempio, ti acquisti il Daygest 41, è 39 mm. E quando l'hai comprato il Daygest? Allora, il Daygest 41 l'ho comprato nel marzo 2018, è già più di un anno, e l'ho preso nel novembre 2017 ancora con le pellicole, quindi fu un bel affare. Quindi l'hai preso usato? Usato come... Usato però con le pellicole? All'epoca facevano sempre uscire dal concessionario... No, perché era di proprietà di una persona che l'ha comprato e non l'ha più voluto, appena l'ha comprato. A proposito, ma l'hai sentito? Ora io la butto lì, è una cosa che sta avvenendo in Inghilterra, non è una cosa che almeno per ora i concessionari ufficiali Rolex stanno facendo qui. Io ho saputo che non danno più... Cioè, te compri un Rolex nuovo e non ti danno più la garanzia. Cioè, la garanzia se la tengano il libretto della garanzia dell'orologio, se lo tengano loro. Di modo che uno, quando, se lo dovesse rivendere, l'orologio non ha più i documenti. Questa... È assurdo. È assurdo, però dice che una cosa sta avvenendo... Nel momento in cui acquisto un bene, è di mia proprietà, e posso anche venderlo, o regalarlo, o buttarlo via, posso farne quello che voglio. Assolutamente. Perché se è immorale rivenderlo a un prezzo maggiorato, questo non ci piove, lo sapete come la penso. Però uno potrebbe avere anche bisogno. Sì, secondo me è proprio costituzionalmente illegale, cioè... Dice che è una pratica che hanno preso alcuni concessionari grossi in Inghilterra. Speriamo che questa pratica non arrivi... Ma io vorrei vedere un buon avvocato cosa succederebbe. Con un buon avvocato, secondo me, si passa dei guai. Certo. Quindi, però te l'hai avuto, insomma, con... Te l'hai avuto con le pellicole, quindi tu era praticamente... Sì, 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 è nuovo, 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 nuovo. Il prezzo è più o meno era quello come da nuovo o qualcosina... Ti sentirei, io penso di aver fatto un affare perché è costato 5.000 euro più... Quindi, beh, più gli ho dato anche indietro l'Hydro Conquest, l'Hydro Conquest, quanto varrà? 600, 500? Sì, dipende, sai, come era, che modello era. Sì, è sempre nuovo. Sì. Siamo su quella cifra lì. Sì. Quindi, insomma, mi sembra un buon affare perché ora sono andati anche quelli, anche... Era uno che non gli interessava più, voleva comprarne altro, io non avevo disponibilità oltre a quella cifra. Certo. Quindi gli ho fatto questa proposta, l'ho accettato. Certo. Evidentemente hanno altre possibilità economiche per poi passare oltre. E che ne pensi, insomma, di questo... del Datejust in generale? Il Datejust è un'icona, è un'icona dell'orologeria, c'è poco da fare, che piaccia o che non piaccia, che non... possiamo avercela con Rolex quanto vogliamo, ma è un'icona come il Submariner e come il Daytona. Ora, io ho preso il 41 perché, secondo me, ha le forme più moderne. Devo dire che all'inizio ero tentato dal Datejust 2, ok? Che è la referenza che è uscita poco prima del Datejust 41. E questo era veramente 41 mm. Sì. Questo era veramente 41 mm. E fortunatamente non l'ho comprato perché poi studiando ci si rende conto che il Datejust 2 è più spesso, 41 mm, gli indici a bastoni molto più grandi, è sproporzionato. Il Datejust 41, essendo 39 mm o 39,5 a seconda di dove lo si misura, è in realtà più elegante. E' ancora tutto sommato proporzionato, più moderno, più sportivo, perché se io fossi stare in Rolex l'avrei chiamato in un altro modo, perché il Datejust da 36, fine, è tutta un'altra roba, ok? Quindi se l'avessero chiamato con un altro nome non avrebbero sbagliato. Però io l'ho scelto questo per averlo come sportivo. Certo, avere anche il 36 con la ghiera zigrinata in oro bianco e il bracciare i Jubilee sarebbe il massimo, cioè uno non lo scude l'altro, hai capito cosa voglio dire? Sì, sono due cose diverse. Sono due cose diverse, però sai, il Datejust è un po' il cavallo di battaglia, tanti pensano che sia il Submariner, ma invece il vero best seller di Rolex come numeri è il Datejust. Questi non sono i dati, non sono... Se consideriamo soprattutto, perché e non solo, il Datejust nella sua declinazione che fa più numeri è quello da femmina. Non lo sapevo. Quello da femmina, quanti millimetri sono, cioè da 36, 34, ora non mi ricordo, no? Però quello lì è il più venduto in assoluto, perché spesso sono i maschi che lo regalano alle femmine e quindi è un po' il best seller di Rolex, lo sanno in pochi, ma è il Datejust, è il vero... quello che fa i numeri. Poi non so, ecco, come da un punto di vista sai, dei guadagni, questo non so, magari potrebbe essere il Daytona che viene, no? Che ha 11.500 euro, oggi sembrano pochi perché per comprarlo da un reseller ce ne vogliono 20, ma in realtà sono tanti 11.500 euro per un orologio, quindi insomma lì un po' di grasso piccola c'è, un po' di guadagno sicuramente c'è. E Rolex però, insomma, te sei un po' polemico, no? Sulle sue... ecco, questo è molto interessante, no? Nonostante che tu sia poi un amante, no? Certo, ma a me piacciono tutti i Rolex, quasi tutti, però non mi piace la politica della casa e la politica della casa è vincente perché ci sono persone che si adeguano alla politica stessa. Ovviamente se, come dicevo in un video, la fetta di pubblico che ambisce ad avere un prodotto si allarga, allargandosi include anche persone che non capiscono niente, che non sono competenti e sono proprio questa maggioranza di persone non competenti che fanno il successo, nel senso che si adeguano a qualsiasi cosa fa la casa. Gli appassionati di conseguenza vedono che aumenta il successo, è come un cane che si mangia la cuda e anche loro ambiscono ad avere quel prodotto. Quindi nessuno riesce più ad avere la lucidità di criticare Rolex perché magari non mette un calibro nuovo dentro gli orologi, perché cambia solamente un bracciale o perché fa certi tipi di politica. bisogna avere il coraggio di criticare, come io che sono un fanboy Omega, però anche in questo caso in certe situazioni critico Omega perché ad esempio le limited edition che sta continuando a sparare, cioè non se ne può più, cioè a un certo punto non si dovrà fermare. E invece pare di no, pare che purtroppo l'orologeria in generale vada avanti a queste limited edition, un po' seguendo anche quello che propone, che dice un po' il guru che è vivere, cioè dice se l'orologeria in base a lui deve vivere di numeri risicati, altrimenti non ha ragione di esistere. Purtroppo mi sembra che stia andando avanti quella politica lì, soprattutto per quanto riguarda gli svizzeri, ecco. Ci sono delle eccezioni. Anche Seiko con l'alpinista, non è che è... Sì, sì, sì. L'alpinist blu? Ma anche, esatto, sì, lì è Odin Kino che ha fatto questa serie limitata, ma anche Seiko sta per le fasce alte percorrendo un po' questa linea, questa linea, ecco. Se loro calcolano quanto potrebbe essere il potenziale di un orologio, mettiamo caso che un orologio possa avere come potenziale 3000 pezzi e ne producono 1500. Sì, ma io vorrei capire se queste persone che acquistano la limit edition lo fanno perché gli piace quell'orologio o perché pensano che sia un investimento, che si torna sempre al suo discorso, capito? A me non mi interessa che sia un investimento, io quando vedo l'Omega, quello tutto d'oro con il quadrante rosso, ok? Sarà pacchiano, è bello però. Sì. Invece ci sono persone sicuramente che non apprezzano e lo comprano perché è un investimento, ce ne sono pochi, poi lo rivenderanno un giorno. Eh sì. Io questo non lo metto. Un po' c'è questo discorso, sicuramente di volere, comunque qualcuno in inglese li chiamano scalpers, praticamente di fare tipo bagarini, insomma che cercano di comprare, farlo suo per poi dopo rivenderlo subito. e sicuramente ci sarà una parte di questi. Un'altra parte credo che si senta tutelata dal fatto che una serie limitata li possa comunque garantire un prezzo nel futuro. Per esempio i Rolex non sono numerati, però non c'è una serie limitata, però sappiamo che sono di fatto limitati, per cui comunque l'offerta è minore della domanda. Quindi un Rolex mantiene, viene visto un po' anche come quel bene che un domani potrebbe servire in caso di necessità, in caso di... Sì, ma infatti in questo non c'è niente di sbagliato, se lo si considera così, però uno, ok, uno, ne prendi uno perché dici, poi se sei un appassionato non ne prendi 20 Rolex e fai la collezione di Rolex perché poi li tieni lì e li fai vedere... Cioè, a me mi piacciono tutti gli orologi, io entrerei dentro un orologio per cercare di capire cosa c'è e mi piace comprarne il più possibile per averli, per possederli, per cercare di capire come sono fatti. Se mi compro 20 Rolex e escludo tutto il resto del mondo, che cavolo di appassionato sono? Niente, cioè lo faccio per avere poi dopo un torno a conto quando li devo vendere, allora li vendo tutti e c'ho i soldi per fare altre cose, allora basta, la passione è finita. Sì, sono più che d'accordo, no, questo è però l'appassionato di... tanti appassionati di Rolex effettivamente si muovono in questo... si muovono in questa direzione. Un po' c'è anche il passato, no? Cioè, alcuni pezzi, prendiamo per esempio il Submarina a scritta rossa. Submarina a scritta rossa era un orologio relativamente, relativamente, perché poi comunque era sempre un orologio costoso che però si poteva acquistare ad una cifra, ad una cifra di uno strumento, ecco, di un orologio che era comunque un orologio per professionisti, ecco, chiamiamolo così, ma pur sempre accessibile. Oggi Rolex Submarina a scritta rossa, che poi ce ne sono quattro varianti, si aggira intorno a 20.000 euro. Va bene, ma questa cosa la capisco anche, cioè è collezionismo puro questo, capito? Ad esempio, nei primi anni 70 ci furono... nel 77 uscì l'Oyster Quartz, che va per la maggiore sui form, tutti parlano dell'Oyster Quartz, con la sua forma, il bracciale integrato e la cassa delle forme gentiane dagli anni 70, ok? Ma prima di questo, il primo orologio al Quartz è nato nel 70, era proprio il Rolex Quartz, che montava un calibro in consorzio con altre aziende svizzere, ok? È durato due anni, anche quello aveva il bracciale integrato, è durato due anni e poi dopo non ne vendevano, però tra il 72 e il 77 in mezzo ci furono due referenze, che sono la 1530 e la 1560, se non mi sbaglio, due numeri così, che sono uguali all'Oyster Quartz ma col calibro automatico, capito? E ne hanno fatto in pochi esemplari anche questo, era una forma per vedere se la gente avrebbe accettato la forma della cassa così. Ora, se quelli lì sono venuti in una certa cifra, perché ce ne sono pochi, perché sono particolari, sono d'accordo, mi piacerebbe anche a me avere una di quelli lì, avere una competenza per sapere, decidere, scegliere quale prendere, mi piacerebbe. Ha senso, non ha senso quando uno esce dal concessionario con un Daytona nuovo e il giorno dopo costa il doppio, non ha senso questo, capito? Beh certo. Il collezionismo vintage ha senso. Beh certo, sì, io credo e devo dire in questo, ora in tanti, no? Si stanno un po', stanno cominciando a pensare, io ho la sensazione che Rolex voglia aumentare gli stimi, cioè la mia sensazione è che si andrà sempre di più verso, cioè ne abbiamo anche già parlato, no? Cioè sempre di più un orologio che va e che diventa sempre di più un'opera d'arte più che uno strumento, ecco. Ma allora questa qua è una cosa che sinceramente non mi interessa approfondire perché per me Rolex ha chiuso, cioè non ne prenderò mai più uno in vita mia penso, poi si scambia idea, succede di tutto, ma ci sono così tante altre cose belle da comprare che se uno si dovesse trovare mai in mano 5, 6, 7, 10 mila euro, cavoli mi scelgo qualcos'altro, certo non vado a prendere, ci sono delle cose di Richard Mill che costano 160 mila euro e sono degli obrobri, cioè, in mezzo ci sono un sacco di cose che con quella cifra lì puoi comprare, un gran Seiko. Si, 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 ma sai anche lì i gran Seiko, si, io ce l'ho, per esempio questo qui, lo sai che questo è il mio, io credo di essere stato in Italia il primo a fare la recensione di un gran Seiko, questo l'ho preso in, l'ho preso proprio in Giappone, no? Però, sai, il gran Seiko, cioè, lo spring drive, te l'hai fatto vedere, no? Ha cercato anche di spiegare il movimento, capirlo è una cosa, spiegarlo poi è un'altra, perché si fa fatica, eh? Si, non è, non è così sempre, o fai disegnini se no, però, ecco, c'ha il fatto che tanti visto non lo considerano proprio un orologio tradizionale, quindi anche lì, insomma, bisogna, cioè, va comprato, sicuramente è quel particolare movimento, però, diciamo, è l'orologio che potrebbe essere il futuro, però, in questo modo, cioè, stride un po' con il, cioè, non so quanto lo spring drive sia legato con l'orologeria tradizionale, bisogna dire che il gran Seiko ha anche, sia il quarzo puro, comunque di qualità, di alta, alta frequenza, sia ha il, l'automatico, e anche ad alta, come questo qui, per esempio, che ho io, sia ha l'alta frequenza, 36.000, però, ecco, per ora in Italia non ho visto tanti che spingono sul 36.000 oscillazioni, non so, io gli appassionati che sono presi da, 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 te qual è quello che ti è entrato più, no, sicuramente lo spring drive è il massimo della tecnologia applicata a un orologio, cioè, senza l'utilizzo di batterie, infatti, quanto ci hanno messo? 28 anni, dicevi, l'altra volta a svilupparlo, cioè, dobbiamo, dobbiamo anche arrivare al punto che quello che ci concede la tecnologia contemporanea, al massimo della tecnologia contemporanea applicata all'orologio, sia da apprezzare. Ora, dentro uno spring drive c'è un circuito integrato, c'è un quarzo che fa da riferimento, ok, quindi, possiamo, questo potremmo chiamarlo, un ibrido, possiamo chiamarlo, piuttosto che altri, che il mega quartz, questo potrebbe essere, però vale la pena averlo, perché è il massimo della tecnologia applicata, è sempre lo stesso discorso che, ad esempio, quando qualcuno dice che l'unico mega, il moonwatch, l'unico moonwatch è quello col vetro esalite, ok, io non la penso, non so quale pensate, ma io non la penso così. No, ma neanche io. Se uno la pensa così, il vero moonwatch è quello che c'era negli anni sessanta, devi comprarti uno di quelli lì vintage, ti prendi quello e dici, ecco qua, questo qua è il moonwatch, è coevo, è contemporaneo di quelli che sono andati sulla luna. Tutti gli altri discendenti che arrivano fino ad oggi sono degni successori di quello, sia che abbia il coaxial, che sia automatico, che sia la rivisitazione, tutti hanno la stessa, ho quasi l'impressione che qualcuno dica che sia quello col vetro esalite il degno successore, l'unico degno successore, perché è quello che costa meno, hai capito? Ma io guarda, io ti dico di più, secondo me è uno speed master a tutti gli effetti anche il reduce. Oh ecco, questo è un dubbio che ho, non saprei... Lì la questione è che il movimento è completamente diverso, però sempre uno speed master è visivamente uno speed master, quindi perché non volerlo considerare uno speed master. Poi ci sarà il purista che vuole per forza, il vetro, il plexiglass... Ma non è quello che fa l'orologio, hai capito? Lo so, però il problema, secondo me, del purista è sempre quello. Il problema del purista è che ci sarà sempre uno più purista di te. Questo è il problema. Sopra un re c'è sempre un altro re. C'è sempre un altro re. e quindi è un cane che si muove la cosa. Sì, ma allora, seguendo quella filosofia lì, il Submariner al giorno d'oggi dovrebbe essere ancora con il vetro e il plexiglass, con il bracciale come una volta, cioè tutti quelli moderni non hanno più senso di esistere. Rapportiamolo a ogni tipo di orologio, è così. E invece sono andati avanti. Sono d'accordo con il ragionamento che fai. Beh, certo c'è una parte di tradizione che comunque rimane e permane. Cioè il fatto di rimanere legati a una tradizione meccanica fa sì che comunque dietro ci sia un genere di mentalità molto conservativo. Quindi legato a un certo tipologia di persona, di mentalità. Spesso, ti dico la verità, mi dà noia anche a me, vedo persone che ragionano in modo molto limitativo. Cioè ti dicano sì, l'Omega, oggi parliamo di Omega Speedmaster perché ha fatto questo esempio qui Davide, ma la stessa cosa la possiamo vedere nei Seiko 61-39 Pog per esempio. Cioè, oppure nei Submariner, si tende, ci sono certe persone che ti dicano no, questo è l'Omega Speedmaster vero. Anche il Digest. Sì, anche il Digest, no, ci sono. Quelli che il vetro esalite, ok, ma se siamo andati avanti, dopo un po' è uscito il vetro zaffero. Cioè, la contemporaneità nell'orologio ha ragione di esistere. Ma guarda, sono d'accordissimo con te. Ora, per farti un altro esempio, questo qui, questo è il 61-39 che sapete, il Seiko Pog, no? Però negli Stati Uniti è chiamato Pog, in realtà già in Europa Pog sarebbe solo quello giallo. Perché Pog c'aveva quello, no? Ma ora ti arrivo al paradosso. Ma non solo. Qualcuno ha cominciato a dire che il Pog non basta che sia giallo, ma deve essere, perché ci sono stati diversi anni, quindi deve essere anche quello con scritto la scritta Seiko qua, con la stessa quadrante di quegli anni lì, se no non è il Pog, no? Quindi si arriva sempre di più a trovare il purista del purista del purista. Quando poi, e qui si arriva al paradosso, no? Che dicevo, corregimi se sbaglio, no? Se l'ho letta bene. Quando si arriva poi a vedere l'orologio vero di Pog, cioè si va ad analizzare, si prende proprio quello, allora si scopre che dentro il Pog c'erano dei pezzi aftermarket. Allora, cioè questo, questo signore, è vero che l'ha portato nella missione, nello spazio, perché ormai ci aveva... però quando è tornato a casa lo usava per tagliare l'erba, questo è... che a un certo punto non andava, l'ha portata all'orologio lì, vicino casa, e quello lì ci ha messo delle parti che non erano originali. Quindi, cioè, secondo me... è un po' questa la storia... Che alla Fira dell'Est con due soldi mio padre comprò. Sì, tutta questa storia così che... Tutta questa storia che poi si arriva a quello che dovrebbe essere la guida di tutti e si scopre che c'è pezzi aftermarket dentro. Ci vuole un pochino di tolleranza nelle cose perché altrimenti... Anche il Breitling Heavy Timer viene da molti... viene da molti criticato, no? Per non avere... Oppure anche lo stesso Zenith è il primero, per non avere il fermo macchina, no? Ora, nel caso del Breitling non c'è il cambio della data veloce. Nel caso dello Zenith non c'è il fermo macchina. Però, d'altra parte, se noi riprendiamo quel dato modello e lo riproponiamo... Cioè, c'è una clientela molto conservativa, no? Sì, ma poi, scusa, ogni orologio ha i suoi punti deboli perché... Poi li si elenca come punti deboli e poi li si ama ugualmente perché... Ogni orologio che ho io ha un piccolo punto debole. Non per questo però lo denigro, hai capito? Lo accetto. Gli stessi russi che a volte denigro il cambio data, dico, per me è insopportabile. Poi ho il poliot cronografo e hai il cambio data che bisogna passare avanti la mezzanotte, tornare dietro... Vabbè, si fa, pace. Sì, sì, sì. Sì, quello purtroppo... E già io all'inizio non lo sapevo che si poteva fare così. Facci il giro. Sì, oppure aspettavo anche la data. All'inizio non sapevo che si poteva fare in questo modo. E quindi... Mi viene in mente, era Teddy Baldassare che recensi un Vostok Amfibia? Gli disse che la corona era rotta. Sì, ma in tanti, perché è così, dicono in inglese uopili. Invece no, invece è fatto così perché è un anti-shock, vedo lì, praticamente. No, ma Vostok veramente fa dei prodotti incredibili, insomma, considerando il prezzo. Io sono stato, in Italia anche lì, credo di essere stato uno dei primi a recensire questo qui. Poi è sempre andato benissimo questo Vostok qui. C'ha il solito problema. C'ha il problema della ricarica, cioè del cambio data veloce. Questi devi metterli lì con pazienza. E poi un'altra cosa che a me non è che è questa ghiera che va... Sì, vabbè, siccome sull'attacco non ci vado mai. Sì, però la pasta, certe volte, vabbè, però la pasta uno magari fa così e lo stesso riesce... Dicono che siccome i primi i primi orologi sub degli anni, i primi diver, non avevano la ghiera scatti, quindi questo qua riprende quelli che... Praticamente non c'è stata ricerca e sviluppo in Vostok che hanno sempre mantenuto... Oddio, per mantenere i prezzi così bassi, di sviluppi non ne fanno. Quello che era una volta è adesso. Sì, però è una bella cosa che ci possa essere un orologio come questo, no? Accessibile, automatico. Non capisco perché non ci siano dei distributori italiani, qualcuno che prende a mano il business, che si è interessato, perché si è costretti ad acquistarli sempre all'estero. Sì, ora è venuto fuori per fortuna mera, non me che... Eh, ma sempre... Sì. A me mi è rimasto fermo in dogana dei mesi, eh. Eh, lo so. E l'avevi preso da mera? Sì, ma mi ha dato la raccomandata. Quanto l'ha pagato? Altrimenti sono 100 euro... Eh, l'avegli ho mandato Paypal, tutto. E da lì, poi dopo altro tempo, che pensavo di averlo perso. Poi mi è arrivato. Poi anche, dicevi anche Omega, sei un amante. Cioè, hai un altro bellissimo pezzo che è l'Omega 300. Anche quello lì non l'hai recensito, no? No, no, perché questo qua l'ho preso anche più recentemente, l'ho acquistato a marzo, a marzo, a marzo di quest'anno l'ho preso. Ho venduto il Planet Ocean da 45 mm, quello con il calibro 2500, la ghiera arancione. L'ho venduto a 2500, poi ci ho messo qualcosa sopra e ho preso quello, ok? Facciamo un upgrade, perché sto qua l'ho preso nuovo. Il punto è che, settimana scorsa, un ragazzo della mia chat mi ha fatto vedere, mi interesserebbe comprare questo. Mi ha mandato il link di Crono24. E dove c'era questo mio orologio Planet Ocean? A 2850. L'ho riconosciuto subito, perché di fianco c'è la revisione che gli avevo fatto fare da Muraglia a Sarzana, c'è il tagliandino. E poi la maglia centrale lucida, perché lui me l'aveva lucidata. Io non gli avevo chiesto niente e lui me l'aveva lucidata quella centrale, capito? Quindi l'unico con la maglia centrale è quello lì. E questo qua l'ha preso due mesi fa, tre mesi fa, lo vende già a 2850, capito? Sono scemo io che... Noi non ci si guadagna mai. L'ho speso anche 300 euro di revisione. Però bisogna vedere se lo vende. Non so, però intanto solamente il... L'idea ce l'ha avuta. L'idea dopo tre mesi, vabbè. Sì. Eh ma sai, c'è pieno di questi qui che cercano di fare, no? Non so, magari ora stiamo dicendo una cosa che non è vera, magari non gli piace, si è stufato. Sì, sì, sì. L'amore del cielo, ognuno fa quello che vuole. Ma pensa che io sicuramente l'ho venduto al suo prezzo, forse qualcosa, e qualcuno... Questo qua, questo che hai preso poi, il 300, dove l'hai trovato? Oh, questo qua l'ho preso in un negozio, un negozio Omega, e l'ho pagato 3.800 euro. Che anno è questo? È nuovo. È nuovo. È nuovo. 3.800 euro con lo sconto, vedi, cioè, di Listino fa 5,5, non lo so quanto fa, 5,3. Ma infatti... Quando io dico che un Daytona, che costa 11,5 di Listino, si potrebbe... Il suo valore è reale, vogliamo togliere un 30%, lo fanno tutti, quindi è fisiologico. Quindi sarebbe 9.000? 9.000 e ci mangiano tutti su 9.000? Ma 5, sì, ma 5, infatti 5, 6... Ora, se è proprio 9.000, non lo so, ma 6 o 7 anni fa erano però lì il prezzo. Io conosco una persona, l'ha comprato da un concessionario ufficiale a Pisa, ha aspettato 3 settimane, quello... E l'hanno dato, e via. Ora, se erano 9.500, quello che era... Oggi, vabbè, oggi va così. Hanno stretto... Hanno stretto giustamente la produzione. Ora, io, da questo punto di vista ti dico la verità, no? Vorrei anche... Se n'era anche di questo se n'era un po' parlato. Secondo me Rolex aveva anche corso un po' il rischio di diventare un orologio troppo popolare. E essendo nel mondo del lusso, quando in una stanza ci si trova a 20 con il solito orologio, capisci che poi è la fine che non faccia, ecco, che ha rischiato di fare un po' la fine del Panerai che 3 o 4 anni fa in California ce l'avevano tutti e poi a un certo punto non l'ha più comprato nessuno. Proprio perché ce l'avevano tutti. Secondo me, da un certo punto di vista, sono stati un po' anche obbligati a toglierlo. Questa cosa le ha dato un altro vantaggio, non solo che ce n'è meno in giro, ma la percezione dell'orologio è diventata proprio quella dell'orologio di lusso. E la gente non lo utilizza più come lo utilizzavano una volta. Cioè tanti ce l'hanno, in altre parole, ma lo tengano a casa. Secondo te può essere stata una mossa... Il tuo ragionamento può essere anche condivisibile, sì, sì. Mi è capitato anche a me, in certe situazioni, di vedere un evento dove c'erano uomini e donne anche, cioè questo è anche assurdo, cioè che le donne si facciano influenzare prendendo un orologio da uomo, tra virgolette, no? Uomini e donne, tutti con il Submariner, che poi anche lì non si sa quale percentuale... È vero o no? Cioè io non vado certo a vedere polso per polso, mi importa Sara Gerano, no? E quindi c'è anche questo lato, cioè l'orologio che hanno tutti, è pieno di persone che mi dicono mi piacerebbe quello lì e gli dico sì ma guarda che c'erano tutti, fa sì è vero, infatti quello che mi frena è questo. Allora non è meglio forse sviluppare un minimo di coscienza, di personalità e di andare a scegliere l'orologio di qualità, bello, che hanno in pochi e che tira anche l'attenzione, se vuoi tirare l'attenzione. Con Rolex vuoi tirare l'attenzione, no? E uno viene lì e ti dice ma cos'è quello lì? Io per esempio mi trovo con un orologio vintage di questo tipo qua, mi trovo a mio agio perché secondo me le persone non si aspettano che una persona come me indossi un orologio di questo tipo, no? Magari viene considerato l'orologio del nonno, io lo indosso e lo porto con orgoglio, capito? Certo. Dimostro di andare oltre quello che gli altri pensano. Certo. L'orologio del nonno, l'orologio piccolino, l'orologio da donna, no, io me lo metto e cerco di portarlo avanti, capito? Sì sì sì. Qualcuno che si vengono la propria personalità e scelga qualcosa di differente da Rolex, da Submariner, cioè c'è pieno di orologi. Ma infatti io credo a me è molto piaciuto quel video che hai fatto a proposito del Polio 8, no, del 31-33, no? Che è un movimento che veramente ti dà tanto ad un prezzo veramente accessibile, no? E i cronografi, come giustamente dicevi te, non sono tanti quelli abbordabili. A parte del 77-50 che ha comunque, che ha un automatico, ma se andiamo addirittura sui manuali... C'è solo due. Sì, c'è il... Quello lì che... Sigara 719, il Polio 32-33, che anch'io ho recensito un Polio 8, tra l'altro... Se no si va sul Mecha Quartz che è un'altra roba. Sì, che dicano che è un bel quarzo anche, ma insomma... Io l'ho recensito il Nezumi lì, quando schiacci il pulsantino fai il click, capito? Perché c'è la ruota che si ingaggia. Però dentro poi l'anima è in fondo e in fondo e a quarzo. Va bene, a un giusto prezzo, averlo lì come orologio... Che cosa ne so, devi andare in palestra, lo prendi al volo, lo metti per calcolare il tempo... Sai che è lì che non devi ricaricarlo... Però il romanticismo va giù a picco come... Sì, che esperienza c'hai avuto con questo micro brand? Che idea ti sei fatto? No, non so, lui ha risposto alle mie domande, gli ho chiesto di rispondere sinceramente... Nizumi, come si chiama? Nizumi, che sarebbe... È il personaggio, sarebbe il Robin Hood giapponese. Sarebbe un personaggio di fumetti giapponesi, Nizumi. E sto qua, gli ho fatto le domande, una cosa che mi hai lasciato un attimo perplesso, il fatto che c'è scritto cinturini di pelle italiana, ok? Allora lì gli ho fatto la domanda, ma sono made in Italy o dove sono fatti in Cina? E lui mi ha risposto, mi procuro io la pelle e poi gliela mando alle fabbriche cinese per farli. Ora io la vedo dura che uno si procura la pelle e poi gliela manda... Cioè, è più probabile che gli abbia detto, rifornitevi lì, magari sono italiani, non lo so. Sì, gliela mando io. Dalla qualità che ho visto del bracciale del cinturino non mi sembrava per niente fatto bene, comunque. L'orologio era bello, in sé era bello, aveva anche un design originale, capito? Cioè, a volte mi domando come facciano a costare così poco orologi fatti così bene. È evidente che in Cina non ci sono solamente fabbriche che lavorano in ciabatte, come dicevamo. Sono anche fabbriche di professionisti che fanno parti per l'orologio. Fate bene. Assolutamente sì. Ma oggi diciamo che un ingegnere a Shanghai mediamente guadagna 3.000 euro. Guadagna di più di un ingegnere in Italia. Noi abbiamo un'idea della Cina che è un'idea unitaria, come se la Cina fosse un'entità tutta uguale. La Cina è praticamente un continente dove c'è una differenza enorme dalle zone rurali alle zone centrali. C'è anche Hong Kong e Singapore che sono... Veramente lì trovi... E poi gente che insomma che lavora, gente che... Gente secondo me che non fa fatica a trovare intanto i soldi. Cioè le banche secondo me danno tanti finanziamenti senza tanti discorsi. E poi sicuramente anche gente seria che lavora insomma ecco. Sicuramente se paghi il giusto tieni la qualità giusta. Se chiedi il minore prezzo possibile ti daranno degli scarti, delle lavorazioni simili. Cioè se oggi... E poi non sappiamo bene perché purtroppo c'è un'associazione dei produttori dell'orologeria svizzera che si è opposta al restringimento delle regole che caratterizzano il Made in Swiss. Ovvero c'è una corrente che vorrebbe che il Made in Swiss fosse realmente un Made in Swiss. ma una corrente soprattutto di produttori grossa. Cioè dove però non sappiamo chi partecipa a questi... in questo... in questa associazione. si oppone al fatto che per avere lo Swiss Made ci debba essere una percentuale alta di componenti prodotti in Svizzera. Quindi vuol dire che c'è un grosso... c'è un grosso via vai di pezzi. Ma sì ma quello è logico. Cioè è comprensibile che qualcuno acquisti delle parti in Oriente. Cioè nel senso discorso se io acquisto un orologio fatto e finito è una cosa. Se acquisto un milione di ingranaggi di tale diametro, tale spessore, li voglio con quell'acciaio lì. La tolleranza deve essere più o meno un micron, ok? Poi mi arrivano e faccio una selezione e un controllo di qualità. E se li pago il giusto perché è logico che li posso mettere dentro un orologio svizzero, la qualità non cambia. Se invece gli dico mandatemi un milione di ingranaggi fatti così, come vengono, vengono. E poi non li controllo nemmeno. Cosa lì è un'altra qualità. Li paghi di meno, li pagherei un decimo di meno. Beh certo. No no, la cosa non fa una piega ecco. Però diciamo che quello che non torna tanto è questo, il fregiarsi di questo marchio che è lo Swiss Made se poi dietro non c'è la volontà di produrre all'interno del proprio territorio. Questo è un po' il discorso. Io con questo non voglio dire che gli svizzeri non sono in grado di poterlo fare. Credo che gli svizzeri siano in grado e sono andati oltre. Perché oggi la svizzera è leader per esempio nelle nanotecnologie. Cioè per esempio anche nel medicale. Producono macchinari proprio veramente che riescono addirittura a operare anche senza aprire. e questo è un futuro sarà questo. Quindi la svizzera è andata avanti nelle microtecnologie. Forse per loro queste tecnologie sono ormai superate. Sono già... Cioè forse per loro fare una cassa di quella... con quella qualità non è più una... non richiede più una specializzazione così alta. No ma ci sono case che costruiscono tutto in Svizzera. Tipo Rolex. Tipo Rolex ma poi anche quelli... Altissima orologeria, gli artigiani, quelli che fanno un pezzo all'anno. Quelli li paghi eh. Li paghi. Gli altri... Ad esempio Maris Lacroix ha la fabbrica che fa le casse e i bracciali. Cioè le vende anche ad altri. Altri si forniranno con materiali dall'estero. Oppure piccole parti dall'estero. Probabilmente fare tutto in Svizzera costerebbe così tanto che il margine di guadagno sarebbe inferiore. Quindi non vogliono rinunciare. Quando ti prendi quel 30% 20% di sconto sull'orologio magari hai già compreso... Hai capito? Ti vado a bomba su quello che è successo. Perché mi ha molto interessato. Nell'ultimo tuo video che tra l'altro sta avendo un mare di visualizzazioni sei stato fregiato di un bracciale da parte di Maris Lacroix. Sì di un cinturino. Ecco non è una cosa da poco. Perché i grandi... Maris Lacroix non è un piccolo. Non ho ben capito da chi è partita l'iniziativa se dal rappresentante italiano... Anche se fosse rappresentante italiano si tratta pur sempre di qualcosa di oltre. Io ho comprato l'orologio da appassionato. Sono andato lì, lo volevo comprare già che andavo lì ho detto... E l'hai anche documentato quando l'andassi a comprare. Gli ho chiesto vengo lì, non mi conosceva lui. Vengo lì, faccio questo video, ti va? Sì sì volentieri. Io ci ho comprato anch'io da quella... Lì a Viareggio. Infatti va. Ci ho preso questo... Lo Junganz. Bellissimo. Lo Junganz Max Bill. L'ho presso lì da lui. Però purtroppo non riesco a metterlo. Ecco finalmente. Sì, questo Junganz qui l'ho fatto poi alla recensione. Sì, l'ho visto. L'ho presso lì proprio da quei ragazzoli. Già, comunque. E quindi ho fatto poi la recensione e già quando ero lì gli ho chiesto il prezzo del cinturino aggiuntivo. E lui mi ha detto Per te faccio 200 euro. In quel momento lì mi ha smesso di piacere il cinturino. E quindi sono venuto via, ho fatto il video e poi ho fatto la recensione senza nessuno che mi dicesse niente. Cioè, proprio con la passione di uno che si è innamorato dell'orologio. Sì, che fra l'altro è molto carino. Molto carino. Sicuramente ha dei richiami di Ger Argenta. Sono due quadrante. Ma insomma non c'è nulla di che. Anche il Rolex e l'Oyster Quartz di cui parlavi di cui si narra che ci sia stato un collegamento con Ger Argenta ma tuttavia non c'è nulla di che. A un certo punto a tutte queste cose le leggende diventano infinite quando si parlano di queste cose. Che ha disegnato questo, c'era il suo pupillo che poi ha disegnato quell'altro e avrebbe dovuto lavorare e allora. Anche lo stesso, dicevo prima, il Rolex Quartz che è quello del 70 e quindi è prima di Genta. Ha già il bracciale integrato, ha già delle forme simili e prima ancora c'era lo Zenit DeFi del 67. Cioè, stiamo parlando di un periodo in cui boom, ti vedi un orologio del 70, lo sai riconoscere? Non me lo sai spiegare perché. Eh, perché le sfere sono fatte in quel modo lì, gli indici sono fatti in quel modo lì. In quel periodo andavano di moda certi particolari, certi dettagli che poi si influenzavano uno con l'altro. Ora, questo qua del Maurizio Lacroix ha il quadrante molto simile. Il quadrante, la lavorazione del quadrante, le sfere molto simili. Il tapisserie, come la chiamano. O Claude de Paris, dipende un po'. Perché forse c'è anche un po' di differenza tra la tapisserie e Claude de Paris. Comunque. E il bracciale, che tanti indicano il bracciale. Il bracciale è completamente diverso. Questo qua è completamente diverso. Ogni maglia è formata da sei segmenti. Quello del Royal Oak è una maglia unica con al centro un ovale che tiene tutte le maglie. È molto più liscio. Questo qua, se lo guardi, sembra un cingolo. Cioè, proprio si piega dal vivo. Ma io l'ho visto, me lo hai fatto vedere, sono venuto da te, no? A Carrara. E me l'hai fatto vedere. Io veramente sono rimasto contento. Cioè, nel senso, mi è sembrato veramente un orologio di grande qualità. Sì, ma in effetti lo è. L'unico punto che possiamo, debole, che possiamo dirgli, è il calibro, il SELITAS e il V200. Che ce l'hanno anche i microbrand. Ma sai, io non è che lo vedo grande. Innanzitutto perché credo che un calibro possa essere anche all'interno migliorato. Se prendiamo i WC, migliora in modo, credo, che si faccia quasi fatica a riconoscerlo. Non ho un 77-50 modificato da i WC. Oltretutto, per esempio, ora faccio vedere il mio, quello che ho. Oltretutto questo qui c'è anche la complicazione della trappante. Ma al di là di questo, anche quelli che sono 77-50 possono essere. Certo che rimangano 77-50. Ci mancherebbe. Non voglio dire che diventano un qualcos'altro. Ma la qualità che un movimento Valgiù, un movimento ETA, può raggiungere è elevatissima. Se è modificato con... Quindi, secondo me, può essere modificato anche un sellita. Attenzione, il sellita che ti dici viene montato dal Monaco. Che poi la parte cronografica sia un Debois-Depra, ma il modulo è quello lì, è un sellita. Ma io credo che sia un sellita molto modificato, molto migliorato. Poi che lo modifichi sellita o che lo modifichi Oyer, questo non si sa, lo vedremo. Però, secondo me, è un po' limitativo. Cioè, i WC ha fatto una campagna forte su questa cosa qui. Cioè, i WC ha voluto dimostrare che partendo da un calibro che fosse un mulo, come è l'ETA 28-24, come è l'ETA 77-50, si può, lavorandolo, arrivare a movimenti di grande pregio. Per cui, io credo che questa cosa qui sia ormai sdoganata, ma in realtà non lo è. Perché tutti, stupidamente, stanno andando verso i calibri in-house. No, ma io l'ho specificato perché anche io va più che bene. Ma siccome Maurice Lacroix fa anche i calibri in-house, ha i propri calibri, rimonta su altri modelli, ma vai a vedere quanto costano. Poi siamo disposti a spendere 3-4 mila euro per avere un Maurice Lacroix. Allora, piuttosto, è meglio avere un sellita SV200 popolare, alla portata di tutti, che lo paghi 1.500, 1.400, quello che è. Cioè, è un bello orologio fatto bene perché le casse e i bracciali li fanno loro. Un calibro di fornitura, come i tipi della Formula 1 c'erano la Ferrari, la Renault Turbo e poi c'erano i motori di fornitura con i Ford Cosworth. Vincevano i mondiali anche i Ford Cosworth. Ma certo, certo. Però il prezzo che ti viene a costare è a portata della maggior parte, non dico tutti, ma della maggior parte delle persone. E' un ottimolo orologio a un buon prezzo. Ma io sono assolutissimamente, guarda, io il canale mio proprio l'avevo proprio incentrato su questo, no? Cioè, proprio sul cercare, no? Quando vedi proprio il video tuo e quello che hai fatto sul Polio, il 3133, è stato uno dei video che più mi è piaciuto, no? Ha visto il commento. Rimasi veramente colpito. Secondo me, ecco, sono proprio questi i canali che danno proprio l'accesso. Cioè, noi è come se fossimo, secondo me, un po' dei fratelli maggiori, no? Che danno la possibilità proprio di entrare. Ma non è che fai entrare con Rolex e con il Digest. Cioè, quello è un po' il punto d'arrivo, no? Ma nemmeno il punto d'arrivo, non esageriamo perché... È un ottimo orologio che uno può avere come può non avere, però la stessa passione che ci metti ad acquistare o a recensire o a indossare un orologio che costa 5.000 euro, ce la deve avere anche con un orologio che ne costa 100. Assolutamente. Perché, allo stesso modo, ha le sue peculiarità. Cioè, è un calibro come il 3133, dietro, con tutti i suoi ingranaggini che ha dietro, il rumore che fa quando lo ingaggi, l'azzeramento. Assolutamente. Io, come ripeto, c'entrare dentro un orologio... L'orologio lo si riconosce anche lontano miglio. Lo si vede da come è fatto che la meccanica è quella giusta. Le viti, la chiusura... Si impara a riconoscerlo, no? Se è finto... Ci sono certe cose che sono finte, ad esempio, un sector che ho a casa che ti ho fatto vedere, una cosa che poi non ti ho detto è che... C'è anche le viti finte qua. Eh sì. Sono dei pin con le viti finte. Non farle le cose finte. Lo so, lo so. Sector è mettere, purtroppo, il dito nella piaga. Nel senso che, secondo me, io lo dico, purtroppo la sector è stata comprata dalle persone sbagliate. Io non so neanche chi l'ha comprata, sinceramente. È un gruppo morellato. Però, cioè, la sector, secondo me, poteva essere veramente un'azienda che poteva fare il salto. Perché le persone della nostra età sono talmente tanto legate alla sector che, secondo me, sarebbero state disposte anche a pagare veramente qualcosa di più. Per due motivi. Uno, perché comunque, quando la sector uscì, faceva degli ottimi prodotti. Ottimi prodotti. Cioè, movimenti 77-50, ma i bracciali che c'erano... Io ho un amico che ancora utilizza un sector di quegli anni lì. E c'è un altro motivo. Perché la sector aveva fatto una campagna pubblicitaria bellissima. Aveva coinvolto Manolo, aveva coinvolto le persone che erano rivolte all'estremo. Cioè, persone che veramente erano nascoste fino a quel punto lì. Sector è stato il primo che li è andato a cercare, no? Che ha cercato quello con la tuta alare, quello con... Quello che fa un po' oggi Red Bull, che sconsalizza gli estremi. Esatto. Però quella lì era un'azienda italiana che aveva fatto... Perché in quel momento lì la sector era... Quindi, secondo me, oggi c'è un grosso... Cioè, quelli della nostra età sono molto legati al marchio e secondo me soffrono nel vedere... Sì, Matteo, nel sito web non trovi un orologio con qualche contenuto interessante, capito? Sono tutti dei quarti, probabilmente miota, perché c'è anche il cronografo un po' fuori... Come non dovrebbe essere, poi vedrete il video. Non ci sono contenuti interessanti né dal lato stilistico, che sono tutti uguali ad altro, né dei contenuti tecnologici. Quindi, anche uno che volesse fare lo sforzo e avvicinarsi, acquistare qualcosa per dire voglio un sector. Non ci trovo niente. Quei soldi lì, quei 200 euro lì, me li spendo anzi dall'altra parte. Purtroppo è così. L'unica cosa di bella che c'hanno è veramente il marchio. Un marchio costruito con impegno, con i soldi, e poi chissà perché è riuscito... E poi è stato comprato e probabilmente all'interno di quel gruppo lì non è riuscito a trovare lo spazio. Secondo me hanno perso il momento di... quando l'orologeria si è trasformata è tornata in meccanica di lusso, ok? Lì dovevano entrare e fare qualcosa di pregiato, di alto livello per... O perlomeno mantenerlo. Mantenere quello standard lì che c'avevano, che era già uno standard alto. Quali credi che possono essere un po' i risvolti di noi youtuber in generale? Cioè potrebbero essere questo fatto, no? Che Maurice Lacroix... Insomma c'è stato questo collegamento, no? Un fatto nuovo perché per ora voglio dire veramente grandi marchi non si erano quasi mai interessati, no? Agli youtuber... Non credo, non credo che ci sia questa... Non credo che sia più un caso... Un caso isolato. Eh sì perché... Una rondine non fa più... Quindi ci vedi un po' legati sempre a... Sì, sempre i soliti microbrand, alle piccole realtà che vogliono crescere... O all'usato. O anche all'usato, sì. O all'usato. Oggi sembra un po' le strade, sembrano un po' quelle, no? Quelle del... Un po' dell'usato. Cioè i grandi abbiamo visto Tristano si è legato un po'... Cioè un po' praticamente lavora per... Come si chiama? Box? Watchbox. Watchbox. Che te conosci anche come sito? Cioè lo... No, più che altro io... Lo utilizzavo, lo utilizzo. Quando voglio vedere un orologio che voglio acquistare, te vai sul loro canale Watchbox e sei sicuro di trovare un polso con un orologio e ti dice le specifiche. Niente di più, niente di meno. Non c'è da divertirsi, da strapparsi i capelli. Te vedi l'orologio come sta il polso, con le sue caratteristiche. Punto. Dura un minuto e lo vedi. È quello. Sì, sì, sì. E probabilmente è il loro core business. Te vedi l'orologio e lo acquisti da loro. In America perlomeno, in Europa non ha senso. Quindi ecco, possiamo dire comunque che te per un... Te ora l'intenzione tua è quella di continuare. Diciamo, sei stato contento. Io mi diverto. Cioè, allora, in primis io mi diverto. Mi diverto a recensire l'orologio, perché come ho detto prima, lo faccio già per punto mio. Poi mi diverto al mio sito web, a fare il sito web, perché mi diverto a metterlo lì dentro. Mi diverto a registrare e a proporre e a condividere con gli altri. Per me, al momento, è un divertimento vero e proprio. Se poi succede che mi regalano un cinturino perché gli è piaciuta la mia recensione, io ne sono orgoglioso. Certo. Ma non è che penso di poter campare o di poter andare avanti sperando che mi regalino cinturini. Non è nel mio interesse. Certo. Ad avanti, mi diverto. Tra l'altro, ecco, colgo anche l'occasione. Per quelli che ancora non fossero iscritti da Davide, ecco, metto in descrizione sotto il link di Davide. Così, insomma, ecco, vi potete iscrivere e seguire le nuove avventure. Perché poi Davide è uno che si muove nell'orologeria fuori e dentro casa. Quindi ci sono anche queste avventure. Colgo ogni occasione. Mi viene in mente se devo andare a comprare un orologio, come è successo, perché non faccio un video? Oppure vado, mi chiamano, ma perché non fare un video? Se questo video vi è piaciuto, come sempre, mettete un like. Se lo ritenete opportuno, iscrivetevi anche al mio canale. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Fai il saluto come fai di solito. Quello che fai... Ciao a tutti! No, che ciao a tutti. Quello che fai love. Love. No, scusa. Love. 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 Fire. Grazie a tutti.